Perino tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso è stata, ha saputo costruire ed esportare l'idea stessa di città educativa. Si è trattato di una stagione felice in cui l'amministrazione cittadina ha saputo essere protagonista di un importante rinnovamento pedagogico e culturale, un rinnovamento che ha radicalmente cambiato la nostra città, il modo di percepire e di vivere le relazioni. In questo momento in cui siamo tutti consapevoli che l'emergenza sanitaria prima, la crisi economica e la crisi internazionale con la guerra dopo richiedano risposte straordinarie e tempestive. La scuola può ritornare, la scuola e la cultura debbono ritornare al centro della ripresa del rinnovamento. Quindi l'amministrazione ha pensato di tornare a quelle esperienze e i risultati maturati in quella stagione, riaggiornandoli e rivitalizzandoli. Il 20, 21, 22 di ottobre la città di Torino, insieme a Città Metropolitana, a Compagnia di San Paolo e alla rivista Animazione Sociale, ha pertanto organizzato il Social Festival, ci vuole una città per fare una scuola, tre giorni di dibattiti, workshop, lavoratori, reading, cene conviviali, scambi, un vero pensatoio a cui vi invitiamo ad essere presente. A presto!